3, 2, 1 Il Giardino delle Delizie di Bosch, realizzato tra il 1480 e il 1490 circa, è uno degli esempi fantastici di rinascimento nordico, in cui il nostro rinascimento si incontra con questa precisione nella rappresentazione, nella pittura tipica dei paesi del nord. È un trittico magico, se vogliamo, anche perché la precisione, la ricchezza di tutti i dettagli inseriti da Bosch ci fanno vivere non solo gli aspetti più intimi di quello che possa essere il pensiero umano, di quello che possano essere il tormento delle anime, ma ce li fa proprio vedere, e dal loro corpo. È un bellissimo, anche posso considerarlo tranquillamente, un bellissimo spaccato di pittura fantasy, tanto che i personaggi che animano queste parti del trittico sono talmente esuberanti, talmente incredibili, che non hanno nulla da invidiare al miglior Tolkien.